Scusa, andiamo a Mondello sul serio? No, no, andiamo a casa. Va bene. Emanuela. Emanuela. Vediamoci di Scannaro! Vediamoci! Amore, amore, muta, muta! Vediamoci! Ma la gente, signore Mai, da sera, che aveva lassato le finestre aperte, perché aveva fatto cavolo di giornata, è vero, aspettate in tala tavola, che si preparavano per mangiare, che vedeva, che si taleva per la televisione, tutte insieme quando non tisano sti spari a facciaro. Ma quando i di caperano chiedono che era successo, presto cominciano a chiudere e pensare, e si sbarri, che non rincano a sto fattempo un palè, ma succede l'assetto di guerra, si cominciano a sentire se re, le macchine, la polizia, che corre, non è presto da, si unge una fuggere cristiana, e tutti dicevano che successe, che successe, ma quando capè lo chiede che era successo, tutti scappò e ne addestà, non ne arrestò più nulla, nessuno le poliziotte, signore Mai, le poliziotte quando vettano di corpi fraccellate, tutti chiedono di pertusa di carne, pigliaro presto un lenzolo bianco, lo commigliaro, e il lenzolo diventò il rosso dello sangue, passava la notte, la gente terrorizzata si accorcare, ma quando era l'alba, e in Palermo si cominciavano a rospicchiare pure le mura, si vedevano caniate a correre per le strade, e non faccia l'umore non ne fa ammazzato lo generale, a faccia una scritta che ci mise un palermetano, che finisce la speranza delle palermetane onesti. Ah, signore Mai, io ora voglio dire che non è vero che ho finito la speranza delle palermetane onesti, la Sicilia non è tutta mafia, noi non siamo mafiosi, l'amo a scampiggere la mafia, l'amo a essere tutti uniti a combatterla, e l'amo a poter un giorno gridare ai quattro venti, sogno siciliano, sogno siciliano, sogno siciliano, sogno siciliano.